buongiorno cari amici così solo per darvi un'idea di come siamo messi l'eco di bergamo domenica 9 febbraio una pagina e un qualcosina andiamo invece a guardare il l'eco di bergamo di oggi venerdì 13 marzo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 una semplice influenza grazie